Un'altra caratteristica di questa macchina della F54 è il fatto che questa qua è una delle ultime, l'hanno tolta di produzione, quindi è una delle ultime, anzi è l'ultimissima col motore John Cooper Works, quindi valutando l'idea, siccome ultimamente ci capitano parecchie mini dove i clienti le stanno acquistando per tenerle e per valorizzarle a livello economico, per tenerle anche a livello collezionistico, questa qua potrebbe essere una di quelle macchine che vale la pena di acquistare e di tenere, perché come ripeto non la fanno più, è fuori listino e ha un motore veramente interessante, quindi anche questa è una nota degna di essere commentata. Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive, Oggi vi presentiamo l'ennesima mini, però mini Clubman forse abbiamo presentata una un po' di tempo fa, di solito sono quelle che girano meno in sostanza, ci sono delle versioni particolari che ce ne sono molto meno, ovviamente le GP piuttosto che le Coupé ce ne sono meno, però rispetto alle Coupé o rispetto alle Countryman, la Clubman è quella forse che ha riscontrato un successo magari leggermente inferiore, a me piace molto come tipologia di macchina, è una macchina molto simpatica, mi ricordo i tempi in cui ero giovane, la mini Clubman, quella con le finiture in legno sulle fiancate, era veramente una macchina molto molto particolare, questo è particolare, diciamo, da far notare il discorso delle porte, perché appunto, no, questa è la versione, la F54 che ha le porte uguali, la particolarità era sulla versione precedente, che aveva una porticina laterale che si poteva aprire solo da un lato, quindi fra l'altro anche controvento, quindi era una particolare, una caratteristica peculiare di quella versione, su questa F54 hanno riportato tutte e quattro le porte in maniera, diciamo, normale come su tutte le vetture, però, al di là delle caratteristiche della macchina, questa è una John Cooper Works, quindi una Cooper S John Cooper Works, con il motore da 231 cavalli, quello che ci ha chiesto il cliente è sostanzialmente un lavoro sullo scarico, quindi siamo intervenuti con uno scarico specifico Ragazzon, doppia uscita, e con il centrale diretto. La caratteristica di questo scarico, che ovviamente è uno scarico come spieghiamo tante volte, lo scarico posteriore, cioè il terminale omologato, il centrale diretto, la caratteristica di questo terminale è il fatto che è perfettamente compatibile con lo scarico di serie, che è comandato da due valvole che aprono e chiudono un circuito per rendere una sonorità più sportiva. Ovviamente nella versione di serie questo tipo di sonorità si sente, ma è abbastanza limitato, con uno scarico Ragazzon, soprattutto con il centrale diretto, questo tipo di sonorità viene enfatizzata, quindi partiamo da un punto di vista estetico, i due terminali da 102 in carbonio, che fanno la loro figura, ma quello che cambia, adesso Mirko accende la macchina e vi farà sentire tramite telecomando la differenza che c'è tra una sonorità normale, quindi con lo scarico completamente chiuso, oppure con lo scarico aperto. Così aperta. Ecco, come vedete, con questo telecomandino che noi lasciamo al cliente, schiacciando sull'apposito tasto si apre o si chiude, si può addirittura parzializzare l'apertura della valvola, fino ad arrivare ad avere una sonorità completamente aperta, molto molto corposa. Ecco. Si è chiuso. Quindi, come avete sentito, questi scoppi che si chiamano pop and bang, come io non sono molto, non sono un appassionato di queste cose, però diciamo che, come ho spiegato tante volte, con questo sistema può essere una cosa, ripeto, può piacere o non piacere. A me personalmente non piace avere una macchina fracassona, però a tanti, questo cliente qua, un cliente che avrà la metà dei miei anni, per cui è molto più giovane di me, chiaramente vanno a ricercare questo tipo di sonorità. Io l'unica cosa che dico quando si sentono appunto questi scoppietti, che sono delle contropressioni che si creano attraverso lo scarico e che hanno una logica, quindi che non creano dei problemi, se vengono realizzati attraverso una modifica della linea di scarico. Cioè questi scoppietti si possono realizzare in due modi, o per via di una contropressione sullo scarico, come esattamente in questo caso quando è molto libero, qua abbiamo centrale e terminale completamente aperti, ovviamente la contropressione è massima, il motore ha una compressione più che discreta, ovviamente in rilascio l'aria che dall'esterno entra all'interno crea questa specie di scoppietti. In alternativa si può ricreare la stessa cosa agendo sulla centralina elettronica, ed è quello che io sconsiglio di fare assolutamente, andando a modificare gli anticipi. Quindi se io vado a modificare gli anticipi ottengo grosso modo un risultato analogo, però da un punto di vista meccanico è assolutamente controproducente, perché rovino le sedi valvole e rovino quello che è il catalizzatore, perché vengono fatte come delle false accensioni fra il catalizzatore e le sedi valvole. In questo caso chiaramente a lungo andare si crea un problema. Quindi benissimo il discorso degli scoppietti, del pop and bang, di quello che vogliamo, però fatto con le giuste modalità, perché è sicuramente meglio avere a limite uno scarico, diciamo, sportivo senza gli scoppietti, e non rovinare il motore, che non avere, come dico io, le preparazioni da bar, o le elaborazioni da bar, che poi alla fine possono creare anche delle problematiche a livello meccanico. Quindi, come abbiamo detto, per il momento la linea di scarico è stata completata, adesso il cliente ci ha chiesto di, però dobbiamo montarli ancora, perché li stiamo ordinando, di mettergli a posto l'impianto frenante, in maniera particolare l'anteriore, che ha già un dimensionamento più che generoso, con le pinze di serie. Il problema è che il cliente, diciamo che utilizza la macchina in maniera abbastanza sportiva, diciamo così, lo si vede anche da come vengono consumate le gomme, da come sono un po' anneriti i cerchi, e quindi a lungo andare ha ovalizzato, quantomeno ovalizzato, i due dischi anteriori. Quindi adesso stiamo ordinando un set di dischi dell'ABC sportivi, ai quali andremo a abbinare ovviamente delle pastiglie gialle, che sono quelle che si abbinano al disco sportivo, in modo tale da evitare questo tipo di problematica, suggerendogli appunto una manutenzione fatta in maniera accurata, perché non è che se uno monta i dischi sportivi e usa la macchina in maniera impropria, anche quelli non si deformano mai, si possono deformare anche quelli. È sempre una questione di utilizzare la macchina con criterio, come diciamo noi. Diciamo che i componenti sportivi alzano la soglia di rischio, però non è che la eliminano completamente. Bisogna sempre usare la testa, come si suol dire. Io direi che anche per questa Mini Clubman è tutto. Se avete bisogno di qualunque tipo di informazione, mi potete contattare in sede allo 027383175. Consultate il sito www.nomelagiri.it, cliccate sulla campanella, soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano e rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Ciao!